fatto di fronte fatto da sopra fatto da sotto si può fare anche di tre quarti il naso che avete capito andiamo a disegnare adesso mettiamo di scorcio no tre quarti ce l'ho qui tre quarti visto dall'alto tre quarti visto dall'alto sarà così 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 qui c'è la cla bella che cerco qui c'è un occhio l'altro occhio sarà da quest'altra parte e sarà qui perché la mia bella gira così fa così via la faccia e allora a questo punto visto dall'alto sarà così probabilmente qui qui no perché in poi dipende veramente questo è fatto così quest'occhio sarà così questo gira così qui c'è davanti qui c'è la parte della bocca una volta che io ho individuato questo di nuovo la luce la facciamo arrivare da qui qui c'è l'ombra qui sarà così poi qui sotto ci sarà un'ombra tornata allora a questo punto qui ci sarà un'ombra più accentuata qui perché qui parte c'è anche l'ombra dello zigomo io non riesco a capire questo disegno ma fatto di questo lo facciamo discorcio visto da sotto facciamo un discorcio visto da sotto allora lo mettiamo così lo vedo da sotto sarà così 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 è così questa parte fa così questa parte fa così chiaramente questo triangolo è maggiore e naso ecco ed ecco fatto di nuovo occhio da quest'altra parte ci sarà un altro occhio anche qui ci sarà la da questo punto partirà qui c'è la bocca però queste sono pure schematizzazioni che servono servono per orientarmi per capire come sta messo il naso tutto qua fatto questo questo sempre sto pallino ce l'ha qui sarà più così qua sotto ci sarà ombra probabilmente qua di fianco ci sarà ombra probabilmente qua sotto ci sarà ombra e qua sotto ci sarà ombra questi sono dei puri riferimenti poi dovremmo dobbiamo andare eventualmente a misurarci qui sotto dentro ci sta questa questa qui è una sfera questa qui è un'altra sfera questo però questo tipo di problemi con gli occhi dovremmo già averli risolti qui ci siamo sai che occhi arrabbiato che mi è venuto adesso a me non interessa a me interessa solo capire come sta messa come è rientrato il chiaroscuro poi lo schema c'è peraltro allora questo qui è visto da sotto è visto visto da sopra visto da sotto visto pari sarà così 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 qui rientra qui di nuovo che il naso sarà in questa maniera a quest'altra parte ce l'ho così peraltro non sto a preoccuparmi in questo momento delle misure perché sto cercando di capire la struttura non sto cercando di di fare un bel disegno di naso io credo che molto sia dovuto alla necessità dei principianti di fare sempre disegni belli o disegni ben fatti in assoluto non serve a niente questa altra parte sarà l'occhio sarà qui l'occhio sarà in questo modo ci fermiamo qui domani una nuova lezione da 5 minuti a un attimo mi trovi su twitch tv dal giovedì alla domenica sera alle 21 e 30 dipingo disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare vieni anche tu ciao 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 ciao